bene ciao a tutti sono sono gex e venerdì sono praticamente le 5 e mezza di pomeriggio appena finito di lavorare naturalmente appena iniziato a piovere giustamente perché venerdì finisci di lavorare e arriva la pioggia sole fino a ieri però vaffanculo ci vediamo tutti quanti domani sera alla discoteca paradise di montereale valcellina per l'ultima serata hardcore friuli venezia giuglia di questa stagione ci vediamo domani sera ciao grazie